In alcuni frangenti dobbiamo essere un pochino più concentrati in fase difensiva, però obiettivamente oggi la partita l'abbiamo vista tutti, i ragazzi avrebbero meritato sicuramente al pareggio forse ancora qualcosa in più, un gol in fuorigioco, ho visto una grande parata del portiere avversario, però devo dire è una prestazione che mi dà ancora più certezze che questa squadra si salverà. In alcune fasi dobbiamo ancora migliorare, però abbiamo un potenziale che è importante, l'abbiamo dimostrato contro una grande squadra perché il Bari è una grande squadra che ambisce alla promozione, però obiettivamente mi sembra di dire che il pareggio sarebbe stato un risultato strameritato quantomeno. Diciamo la verità, la partita non l'ho vista solo io, l'avete vista tutti da questo punto di vista, quindi mi sembra di avere espresso un'analisi abbastanza obiettiva, non ho detto che siamo stati perfetti perché altrimenti non avremmo perso 4-3. Dobbiamo migliorare in alcune fasi, però dal punto di vista dell'impegno, anche della qualità tecnica, della potenza d'attacco, mi sembra che la squadra si sia espressa, voi l'avete vista, ditemi voi se c'è la differenza di classifica e di tasso tecnico fra le due squadre. Io non l'ho vista, ripeto poi non parliamo del secondo gol del Bari era un fuorigioco, siamo anche un pochino sfortunati perché sul primo gol del Bari il rimpallo arriva sui piedi dell'attaccante che segna, noi avevamo coda pronta e la palla cade sulla traversa invece di cadere, però fa parte del gioco questo, bisogna stare compatti, uniti perché ripeto io sono straconvinto che ce la possiamo fare e ce la faremo.